L'attacco è un altro rimbalto delle quante Senta, va a diventare veramente un giocatore difficile da marcare per gli avversari Hunter trova un gank Riportandosi in parità Intanto Hunter Subito a Josh Green Che lo supera Alle UF a cercare Neiko Hunter Senta, va proprio da Hunter Ancora da tre punti Siamo favoriti per uno delle prime quattro posizioni di playoff L'ultimo 6 Neravenna Ugo in mente Tornano di tutto come in questo caso Battista Tantello L'angolo L'ombari Basso di Hunter Che poi Corre Tornano di tutto come in questo caso Mi piace assoluta la grande Hunter E va a volare canale Ma sta giocando con più patienza Cercandosi meglio E Hunter Adesso metti Pistaglia sotto Non riesce a Hunter Contro degli E' dalla media Il suo tiro Per ieri Ander dalla media Solito tiro dalla merginaria che prende un colpo in faccia Ma non arriva al fischio Ander dalla media Ander dalla media E la graffa del campione Si vede in queste confusioni Fuori per Ander Riferente subito al pallone Che trova il terzo altro Ander Aspetta il blocco green Ander Ander Aspetta il pallone Ci riprova da tre minuti Altro canale Green in pallone